Torna il MIAC e come ogni anno si riaccendono i riflettori su una delle eccellenze che Lucca può vantare nel mondo, il Centro Qualità Carta, realizzato da Lucenze nel 1992, nel cuore di uno dei distretti cartari più importanti d'Europa. Un laboratorio dove si incontrano ricerca applicata, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione. Un laboratorio di prova indipendente specializzato in attività di studi, analisi e test su prodotti a base di cellulosa, quali carta, cartone ed imballaggi in cartone ondulato, carta per uso domestico, igienico e sanitario, pasta per carta e che vanta una sezione per il testing di imballaggi per il contatto con alimenti, per il trasporto di ortofrutta e per merci pericolose. Interventi che, con il passare del tempo, hanno visto Lucenze ottenere tutta una serie di riconoscimenti e qualificazioni che hanno spinto la società a scendere in campo in prima persona facendo nascere la 55100SRL. Una nuova società che progetta e realizza elementi di design in cartone per l'allestimento di ambienti indore è che si avvale della garanzia del centro qualità carte e di una qualificata rete di artigiani, di aziende piccole e grandi che da secoli producono e trasformano la carta.